Benvenuti nella contro rassegna stampa delle notizie che viene diffusa in Italia dai media euro-atlantisti. Come commenta Mondi nel giornale conservatore Maggiaro, momento storico. Stato distrutto il primo esemplare, chiamiamolo così, il primo carro armato pesante di produzione americana, il famoso Abrams M1, nel conflitto ucraino dalle forze armate di Mosca russe. A riferirlo, Jan Gagin, consigliere capo per i russi ovviamente della Repubblica, ormai diventata parte della Russia, regione di Danes DNR. Lui che è quindi il numero due della DNR per i russi, dopo il governatore Dienish Pusilin. Distrutto il primo carro armato, che è stato, secondo fonti russe e anche quelle ucraine, risparmiato nell'utilizzo dalle forze armate di Kiev, dalle AFU, proprio per la limitata quantità fornita dagli Stati Uniti al cosiddetto alleato ucraino nella guerra contro i russi da utilizzare nei vari fronti di guerra, come quello appunto intorno a Davideyevka. Ci troviamo proprio in DNR, una decina, ventina massimo di chilometri, nord-nord-ovest, rispetto alla città metropolitana di Danesk, in mano russa, diventata Russia dopo i famosi referendum indetti dal presidente russo. Comunque ci troviamo confermato proprio la zona anche dallo stesso Gagin, intervistato a RIA Novosti e agenzia stampa russa. Dice lui, tutti i mezzi moderni, quindi anche i carri armati occidentali dati dai paesi nato, come gli Stati Uniti d'America, bruciano, si dissolvono, letteralmente si squaiano, come si può dire, alla luce del sole, nel bacino di Danesk, o per meglio dire nel cielo del bacino del Don, appunto, come i vecchi carri armati, anche sovietici, derivazione sovietica, come tutti gli altri, non esistono armi delle meraviglie, wunderbaffe. Comunque, vi faccio vedere anche il video, condiviso anche dal giornale ungherese, da questo messaggio su X inglese, in inglese come potete vedere. A sinistra la foto, il fotogramma della distruzione dell'Abrams, a destra proprio letteralmente la scena in movimento dinamica. Washington, ricordiamola, ha donato, come ricorda anche Oro Sirac, giornale filo russo, che si occupa di ex Unione Sovietica, in lingua ungherese. Washington ha donato, quantomeno promesso, in realtà, al regime di Zelensky, Shmiel, così viene chiamato, sto traducendo, 31 carri armati Abrams M1A1, se non erro, questa è la sigla completa. Le forniture sono partite, secondo fonti mediatiche americane, già a settembre 2023, è saltato fuori un video, ve l'ho raccontato qualche giornata fa, del primo utilizzo, nella prima linea del fronte di guerra proprio da Avdeyevka, del primo Abrams dalla parte ucraina, proprio per una situazione climatica sicuramente migliore rispetto all'inverno presente a gennaio. Kirill Budanov ha ammesso, il capo della GUR dei servizi militari ucraini, che gli Abrams non stanno durando molto nel fronte di guerra, vengono distrutti, non sono proprio adatti a questo terreno ucraino, sono stati costruiti, se non erro, a partire dagli anni 90, proprio per scenari di guerra medio orientali o, per esempio, anche afghani. Ringrazio Franco per il contributo a questa controinformazione che cerca di portare a prospettive meno popolari nel cosiddetto mainstream italiano. È stato distrutto, per la prima volta, anche una stazione lancia missi di difesa aerea di produzione americana, sempre americana, in mano ucraina a NASAMS, sistema difensivo aereo, appunto, come ricorda lo stesso giornale Prima Mondiner, un nuovo video che, virale, termine orribile, in rete su X, mostra nella zona Loblast, nella regione di Zaporizia, nel sud dell'Ucraina del 91, uno dei vari fronti caldi di questa guerra, di questi ultimi mesi, distrutto una stazione, appunto, per l'avvio di missili, NASAMS, enorme esplosione, saltato tutto in aria, siamo, ci troviamo nella sponda ovest del fiume Dnieper, Dnipro in italiano, ci troviamo a nord, qualche chilometro a nord, dalla città capoluogo, Zaporizia o Zaporizia, che dir si voglia, in Ucraina e in russo. Il NASAMS è un sistema missilistico di difesa aerea a breve e medio, raggio di produzione americana e norvegese, una coproduzione con il paese scandinavo del nord Europa, che fa parte della Nato. L'Ucraina ha ricevuto qualche dozzina di queste stazioni, sistemi missilistici per la difesa del suo spazio aereo. Vi faccio vedere il video, lo ingrandisco anche, della distruzione, appunto, di questo, chiamiamolo, terminale. Andiamo avanti. Avdeyevka, all'ovest di Avdeyevka, quindi parliamo nord-nord-ovest della città di Danesk, i russi stanno consolidando la difesa dagli attacchi che vanno avanti al 2014, ucraini con gli aiuti occidentali, armi anche occidentali, sulla città, anche sui civili, sul capoluogo. È stata confermata, questa volta da Kiev, non dai russi, come vi ho raccontato qualche giornata fa, la conquista di Mosca di Lastochkine, una cittadina, appunto, a ovest di Avdeyevka, un soborgo del soborgo, una cittadina, dal punto di vista tattico, per la difesa di Danesk, molto importante. Il portavoce del gruppo militare ucraino Tavria ha parlato di una ritirata ucraina strategica per costruire una linea difensiva su tre comuni più a ovest, più favorevole per le forze di Kiev, per resistere all'avanzata russa. Dopo la conquista di Avdeyevka, le forze russe non si fermano quindi e proseguono verso una direzione, verso l'ovest occidentale, per completare la conquista della regione di Danesk, sotto mano russa, per circa due terzi del territorio, rispetto all'organizzazione amministrativa dell'Ucraina del 91. Si parietto alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza ONU, tra Stati Uniti e Russia. La rappresentante permanente degli Stati Uniti che vedete in questo fotogramma ha ricordato la brutalità, l'aggressione russa contro l'Ucraina e la morte di Navalny, che sarebbe la dimostrazione della violenza di Putin contro i dissidenti politici, gli attivisti. Vassiline Benzia, come ha risposto il rappresentante permanente russo all'ONU, che Navalny è un ambasciatore sostanzialmente a New York, Navalny è morto di cause naturali, coagulo di sangue nel carcere vicino, un circolo polare altimo nel nord della federazione russa, cosa, un scenario molto probabile persino per Budanov, come abbiamo visto nell'ultima rassegna stampa, per il capo dei servizi militari ucraini di Kiev. Kirill Budanov è un fedelissimo iselienz, che lo sappiamo. E poi lo stesso Nebenzia alla collega americana, perché non avete fatto nulla per salvare dalle torture in carcere di Kharkiv, quindi l'Ucraina del nord-est, l'Ucraina di Zelensky dalla morte, quindi il giornalista, anche il cittadino americano Gonzalo Lira, non avete mosso un dito nonostante la lettera anche del padre, se non erro vedete in questo messaggio più volte condiviso anche da me, del padre di Gonzalo Lira alle autorità americane. Autorità americane erano quella di Biden, l'amministrazione democratica insieme alle autorità di Kiev, Zelensky, ci sono criticate dallo stesso giornalista Gonzalo Lira. Mosca intanto ha dichiarato come organizzazione non voluta, non gradita in Russia, e ha spento le frequenze radio in Radio Europa Libera, organizzazione mediatica finanziata da fondi pubblici americani negli Stati Uniti d'America, che ha più volte criticato la guerra di aggressione di Putin ad un pubblico, di fronte a un pubblico quindi di ascoltatori russi. E quindi il Ministero degli Esteri Americani, il segretario di Stato Blinken, accusa la Russia di non voler permettere voci dissidenti in Russia, aver ucciso anche Navalny, come detto più più volte, dal presidente Biden, mentre l'Occidente è stato il primo a censurare canali televisivi, per esempio come Sputnik e RT in Unione Europea, per esempio, quindi ben prima della reazione russa. Il Kremlin ha, tramite il portavoce Dmitri Pieskov, commentato la chiusura dell'indagine della Danimarca, della polizia di Copenhagen, sul sabotaggio e la distruzione del gasdotto del Baltico Nord Stream 1 e 2. Come ha commentato, Copenhagen, ha detto Pieskov, non vuole assolutamente arrivare alla realtà dei fatti di chi c'è dietro per la Russia, chiaramente gli Stati Uniti d'America. Grazie ai Stati Uniti, come ha detto l'attuale Ministro degli Esteri polacco Sikorsky. La polizia di Copenhagen dice di non vedere abbastanza dati basi giuridiche per arrivare ad un'accusa penale contro i gnoti. Come reagisce il russo? La situazione è vicina all'assurdo, veramente, sono sempre più vicini i danesi, gli europei, tutto questo è successo in territori in acque danesi, va ricordato, sempre più vicini alla realtà dei fatti e all'alleato più importante, più vicino tradotto a Washington. Intanto le parole di Macron, presidente francese, non si esclude la possibilità di inviare in futuro truppe, soldati di contingenti NATO europei a combattere. In Ucraina poi c'è stato il primo ministro francese che ha ripiegato su aiuti cibernetici nella guerra elettronica contro la Russia in Ucraina, tutte cose per ammorbidire i no duri, le reazioni anche violente che sono arrivati dai capi europei a questa ideona, il vertice conferenza di Parigi di cui vi ho parlato nell'ultima contro la Sene in cui ho parlato nell'anticipazione del primo ministro slovacco Robert Fizzo proprio all'idea, all'ideona del presidente di Parigi. Come ha reagito il governo ungherese sappiamo il più critico probabilmente, anzi sicuro, in Unione Europea a questi aiuti militari all'Ucraina contro la Russia. Il segretario di Stato di Fidesz, di Orban, Dometo Erciobo, ha detto ecco, iniziamo, inizia la guerra. E ha ricordato le parole, la profezia di Orban Victor in intervista del primo ministro ungherese alla radio pubblica Kosciutradio di un annetto fa del 2023 in cui aveva parlato lo stesso primo ministro di Fidesz che arriverà il momento in cui i capi europei decideranno di mandare addirittura soldati dopo aver mandato prima gli elmetti, poi le munizioni, poi le armi, i carri armati, i caccia come gli F-16 poi vedremo ancora. Invece la reazione è molto più dura e con toni più duri su X di Toroscoi Lasz l'opposizione a destra di Orban del movimento della nostra patria Mio Sank Muscolum in ungherese. Lo studente, il bambino prodigio dei Rothschild, dei banchieri Rothschild, cioè Macron, sta preparando, sta organizzando la terza guerra mondiale che per forza di cose sarebbe nucleare. Bisogna immediatamente, molto velocemente, dice Toroscoi, cambiare e sostituire questa cosiddetta elite europea dell'Unione Europea malata mentale, dice lui, elmebeteg. L'esercito americano dichiara in un nuovo documento la Russia come nemico, nemico. Quindi linguaggio da guerra mondiale, si parla di alleati dalla parte occidentale, si parla di nemici, soprattutto contro le forze di terra di Mosca. Il documento si chiama CADD, documento di Washington, dell'esercito americano ufficiale, 280 pagine, diffuso su X, dallo stesso CADD, lunedì, quindi sulla piattaforma di Elon Musk. E con il tweet, il messaggio, si intitolava, con una domanda addirittura, conosci veramente il tuo nemico, tradotto Mosca, la Russia? Il problema, come disse Putin qualche mese fa, non è l'Ucraina in sé, per noi, per i russi, ma coloro che con le mani, tramite le mani ucraine, quindi una guerra per procura, cercano di distruggere la nostra Russia. Ha detto il presidente russo, appunto, che ha continuato, chiudo, noi ci occuperemo molto più rapidamente dei nostri nemici, piuttosto, non dei nostri nemici, contro chi cerca di distruggerci, sistemeremo noi prima loro, piuttosto che il contrario. L'Unione Europea dovrebbe, tutti i governi europei, girare, devolvere molti più soldi alla difesa, alla costruzione della capacità di deterrenza contro la minaccia, l'aggressività russa e togliere fondi alle spese e ai programmi sociali, che significa pensioni, stipendi pubblici, sanità, istruzioni, eccetera, eccetera. Parole dimette Friedrichsen, primo ministro danese, intervistata martedì, quindi ieri, al Financial Times di Londra. Dice il primo ministro socialdemocratico che bisogna assolutamente evitare la deriva, gli sbagli europei, del mondo libero delle nostre democrazie, Stato di rito europeo degli anni 30 del Novecento con fatti contro Hitler e l'avanzata di Hitler, i piani di Hitler. Chamberlain e tutto quello che sappiamo nella storia tumultuosa del Novecento, del vecchio, del nostro vecchio continente. Per chiudere, Berlin outside un fonte tedesca. Il Reichstag, le autorità tedesche, il governo a semaforo Ampel, sta costruendo costruendo una fortificazione, muro, eccetera, addirittura una specie di trincea intorno al perimetro del Reichstag, cioè della Camera Alta del Parlamento Federale Tedesco, per proteggere la struttura, la democrazia, dagli attacchi armati, possibili soprattutto dall'estrema destra neonazista. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio Rorsag.